ma come mai un alveare in pieno centro ma è normale sono tantissimi a centinaia ma non hai paura non ti fanno niente in pieno centro con lo smog si è fatto un alveare proprio qui evidentemente allora non è una cosa che non capita mai abita abbastanza vabbè diciamo non sono vespe quindi non succede niente sono pure abita a miele quindi puoi pure prendere il miele qua bisogna prima portare in quarantena bisogna prima vedere che significa in quarantena? si sono abiti che hanno delle patologie magari possono mischiare rispettare gli altri abiti quindi vanno in un abito particolare dove li portano tutti questi abiti? questi qua li hanno di voi di che quenze? in gaffino sovrano per me dove verranno l'asl vedrà com'è no 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 siete voi che vi andate a verificare se c'è una patologia è tutto a caso che non so e da quanto tempo che sei caduto? sono in 20 minuti fa che viene e come fai a non avere paura? sono stato contattato dal comando di 20 anni sono tantissimi però non hai paura proprio ciao vabbè buon lavoro ciao 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 ciao